Come si può fare la scorsa edizione? Come si può fare una cura solamente locale e quindi con delle piccole iniezioni di cortisone nelle unghie o se bisogna fare delle terapie insistemiche che sono più importanti e questo dipende un po' dalla gravità e dall'età del paziente. Anche in altre malattie infiammatorie come l'ichen planopilare vale lo stesso discorso e quindi è molto importante andare a valutare il paziente della sua interezza vedendo sia la gravità della malattia ma anche qual è la situazione medica del paziente riguardo a quella e ad altre patologie. Grazie a tutti!